a prova di bomba, perché la Premier sarà insieme al Presidente della Repubblica a Verona per un impegno già da tempo preso. Abbiamo visto se era possibile farlo domani, ma ci è stato detto di no. E allora ovviamente abbiamo pensato, quello che molti dicono in questi giorni, che c'è un problema tra la Presidente del Consiglio, la leader di Fratelli d'Italia e la nostra rete, la Sette. Allora abbiamo verificato e il risultato è buonasera. Buonasera direttore, come sta? Non c'è mai un problema tra me e le persone che non la pensano come me, ma insomma che vogliono parlare di politica. Questo la ringraziamo perché si era ingenerato e lei lo sa meglio di tutti, è stata anche un po' complice con quel video che ha mandato ai telespettatori della Sette che mi è parso ironico, ma qualcuno ha visto come... No, qualcuno ci ha visto un attacco ai telespettatori della Sette, invece io mi sono limitata a ironizzare con alcuni conduttori della Sette, penso che sia nel mio diritto, insomma, penso che sia anche la ragione per la quale non mi capita spesso di venire. Ma insomma, se si vuole, diciamo così, costruire il racconto del mostro, poi non si può neanche sperare che io faccia il mostrino, come dire, addomesticato. Indomesticato, no? Ecco, quello almeno ve lo si deve concedere. Il copione se lo fa da solo. Però la mia presenza qui dimostra che insomma sono sempre disponibile a parlare. No, voglio dire due cose. A lei, come dire, a suo favore, che l'abbiamo sempre invitata in occasione delle campagne elettorali ed è sempre venuta. Esatto. Questa è la sesta campagna elettorale che lei fa da leader di Fratelli d'Italia o per le politiche o per le europee, che sono andato a rivedere, è sempre venuta nei nostri studi per l'intervista. Va detto anche che questa è la prima delle campagne elettorali che fa non da esponente dell'opposizione. Ha fatto cinque campagne elettorali da opposizione, l'ultima per la verità da predestinata in qualche modo alla vittoria. Questa è la prima campagna elettorale che fa con un ruolo diverso. E si è visto anche, abbiamo visto le immagini in apertura di telegiornali in Albania, non solo, come dire, non solo agevoli, non solo facili, in una contrapposizione diretta anche con un esponente di più Europa e quindi gli Stati Uniti d'Europa come Maggi. A proposito, vi conoscete da tempo? Sì, guardi, ci conosciamo da tempo e non è la prima volta che l'onorevole Maggi si lancia in questo genere di iniziative. Io per la verità lo avevo visto seduto durante la conferenza stampa e pensavo che avrebbe svolto la sua iniziativa, che era abbastanza prevedibile durante la conferenza stampa, dove tra l'altro, essendo tra italiani in territorio italiano, tutti lo conoscevano, mi ha francamente un po' colpito che invece non lo abbia fatto, che abbia aspettato di trovarsi da solo tra albanesi che non potevano sapere che fosse un membro del Parlamento, si è gettato davanti alla macchina del primo ministro, credo, insomma, albanese e la sicurezza l'ha fermato, come farebbe, adesso diciamoci la verità, in qualsiasi nazione del mondo, perché la sicurezza è responsabile di quello che accade. Quindi io sono scesa dall'auto, ho spiegato che si trattava di un parlamentare e insomma lo hanno, lo avevano trattenuto, non l'hanno più trattenuto, è andato tutto, insomma, come da copione previsto. Come abbiamo visto, era giusto. Campagna elettorale. Poi si potrebbe discutere se le campagne elettorali si fanno così, nel senso che lei diceva io ho fatto molte campagne elettorali, sì, lo confermo, ho fatto anche un'opposizione molto dura, mai mi sarei sognata di andare a fare una piazzata quando il primo ministro italiano era con un omologo, perché lì non è più una questione interna italiana tra i partiti, diventa un tema di credibilità della nazione, ma questo, diciamo, è un problema che la sinistra non si fa molto spesso. Ecco, a proposito, qual è la differenza veramente da membro dell'opposizione, da leader di un partito dell'opposizione, si fa una campagna elettorale, come dire, agitando i temi, come si è trovata a dover ribaltare questo ruolo? Perché poi bisogna spiegare ragionevolezza, i soldi non ci sono, tutte queste cose che si dicono quando si sta al governo. Secondo me che si stia all'opposizione e si stia al governo si deve dire la verità alla gente e la gente lo capisce. Io penso che i cittadini siano molto più intelligenti di come molta politica li fa e quindi quando ero all'opposizione dicevo quello che pensavo e quando sto al governo dico quello che penso. Poi questa è una campagna elettorale che io oggettivamente non ho fatto, nel senso che non ho fatto come facevo le campagne elettorali, ancora mi scrivono, ma vieni nel comune di... Io avevo detto che non avrei smesso di fare il Presidente del Consiglio, non ho smesso di fare il Presidente del Consiglio, ho fatto un'unica manifestazione di campagna elettorale sabato scorso e per il resto continuate a governare. E mi si rifaccia questo, che continuo a governare. Se avessi fatto la campagna elettorale mi avrebbero detto che facevo la campagna elettorale invece di governare, governo e mi dicono che non posso governare perché sto in campagna elettorale. Io devo fare il mio lavoro e continuo a fare il mio lavoro. Il governo è andato avanti, ha barato molti provvedimenti in questo mese. Stamattina ci siamo regati in Albania a vedere lo Stato d'attuazione, così come abbiamo organizzato a Caivano, siamo riusciti a inaugurare rispettando i tempi, un impegno che ci eravamo presi con quei cittadini, ma è normale che l'attività vada avanti. Certo, dire che è una campagna elettorale un po' eccessiva, poi sicuramente sto facendo più interviste in questo periodo perché penso sia giusto raccontare il lavoro che si è fatto. Senta, nel dire ai nostri telespettatori che non è che siamo diventati anche o noi telemeloni, anzi, qui si chiamava TMC, telemeloni Cairo. No, è semplicemente il tempo che stiamo dando doverosamente al Presidente del Consiglio, che ringraziamo di esserci venuti a trovare, è quello che avrebbe avuto... Glielo diranno, lei lo sa che glielo diranno. C'è di peggio. C'è un mondo nel quale si vorrebbe che io sparissi, ma insomma non posso accontentare. Però ecco... No, no, ma assolutamente, lo dicevo, non è un disclaimer, ma è soltanto per spiegare ai nostri telespettatori che voglio prendermi tutto il tempo che è necessario perché i temi sono tanti e importanti. Tra cui, se non le dispiace, innanzitutto il lavoro, l'occupazione, i salari, perché c'è chi dice, ed è un... Anzi, lo dicono le stime ufficiali, i numeri, l'occupazione cresce, più di mezzo milione di posti di lavoro in un anno, soprattutto posti di lavoro a tempo indeterminato, però salari che in Italia, molto più che negli altri paesi, non salgono come invece sale il costo della vita. da questo doppio problema, positività dell'aumento dei posti di lavoro, in questione dei salari, di come far aumentare, di cosa fare comunque per la dimensione dell'occupazione e della qualità dell'occupazione del nostro paese. Allora, guardi, direttore, il tema dei salari in Italia... Il tema dei salari è un tema che l'Italia si trascina da molti anni. Io devo sempre ricordare che nei dieci anni precedenti il Covid in Italia i salari diminuivano dell'1,5%, mentre in Germania aumentavano del 16% e in Francia del 9%. È la ragione per la quale, quando noi siamo arrivati, abbiamo concentrato tutte le poche risorse che avevamo, perché non ne avevamo molto, a rafforzare i redditi delle famiglie. Non voglio ricordare, staremmo qui 20 minuti, tutti i provvedimenti che abbiamo fatto, ma dal taglio del cuneo fiscale alla decontribuzione per le mamme lavoratrici, l'aumento delle pensioni, particolarmente delle pensioni minime, l'accorpamento dei primi due scaglioni dell'IRPEF, quindi sempre per i salari più bassi, il raddoppio dell'assegno unico, la detassazione dei premi di produzione, dei fringe benefit. Cioè ci siamo concentrati su questo. Lei diceva che i salari non crescono quanto cresce il costo della vita. Per la verità, l'Istat dice che da ottobre 2023 i salari finalmente hanno ricominciato a crescere più dell'inflazione. Significa che l'inflazione non si mangia più l'aumento. Esattamente come l'Istat dice che nel 2023, si ricorda il dato che le ho detto, meno 1,5%, nel 2023 i salari sono cresciuti in Italia, i redditi salari, del 3%, che è quindi un cambio di passo. Ora, ovviamente non si può pensare che in un anno noi risolviamo una situazione che ci portiamo avanti purtroppo da diversi decenni, però sicuramente si è invertita la tendenza. Significa che spendere le risorse sulle cose più importanti invece di spenderle, di gettarle dalla finestra come purtroppo spesso è stato fatto, alla fine dà i suoi frutti e bisogna continuare su questa strada. Senta, però un altro tema è ovviamente quello che ci porta all'aumento della produttività ma anche all'aumento dell'occupazione nel senso che c'è bisogno, lo dicono gli imprenditori, di molti, molti posti di lavoro in più. C'è bisogno di coprire molti posti di lavoro in più, centinaia di migliaia di cui non si riescono a trovare coloro che li possono occupare. E per questo lo stesso governatore della Banca d'Italia lo sa benissimo l'altro giorno, meno di una settimana fa, nelle sue considerazioni finali, ha detto che ci vorrebbe un ingresso di immigrati regolari molto più ampio di quelle che sono le stime dell'Istat. Questo impatta anche... ...restando che noi siamo il primo governo che ha fatto un decreto flussi triennale, quindi non di anno in anno, quindi si figuri se non capisco questo problema. Però i dati non dicono questo. Almeno non quello che io ho reso pubblico ieri, perché quando noi abbiamo fatto il decreto flussi, particolarmente quando abbiamo fatto quello triennale, abbiamo previsto anche un sistema di monitoraggio di questi flussi. E i dati che sono emersi sono obiettivamente raccapriccianti, nel senso che i dati che ho denunciato ieri, che cosa dicono questi dati? Dicono, punto primo, che in alcune regioni, in una in particolare che è la regione Campania, c'è una richiesta esorbitante di ingressi per motivi di lavoro, rispetto a quello che il tessuto produttivo locale può, diciamo così, trenare, può raccogliere. Per capirci, 157 mila richieste dalla Campania, che ha il 6... parliamo degli stagionali, quindi settore agricolo, settore turistico alberghiero, 157 mila richieste, che sono più della metà del totale, per una regione che ha il 6% delle aziende agricole italiane. La Puglia, che ha il 12% delle aziende agricole italiane, fa richieste per 20 mila ingressi. Perché l'avete denunciato alla Direzione Nazionale Antimax? Glielo spiego subito, l'ho denunciato perché questo dato, insieme a un altro, che è ancora più impattante, che dice che la distanza tra chi entra in Italia per motivi di lavoro e chi effettivamente stipula un contratto di lavoro, in alcuni casi è abissale. Sa quanti in Campania di questi 157 mila hanno sottoscritto un contratto di lavoro? 2,8%. Sa che significa? Significa, dal mio punto di vista, che la criminalità organizzata si è infiltrata nei meccanismi per la migrazione regolare, quella per i lavoratori stagionali, quella per chi ha un posto di lavoro. E, dal mio punto di vista, dietro pagamento di denaro, fa queste richieste per le organizzazioni criminali. Vuol dire, secondo me, che c'è un rapporto tra le organizzazioni criminali che stanno in Italia e quelle che stanno all'estero, che sono le stesse dei trafficanti, per utilizzare i canali della migrazione illegale come ulteriore strumento di migrazione illegale. Quindi io sono andato al procuratore nazionale antimafia Melillo, gli ho portato un esposto per verificare quello che è accaduto fin qui, perché poi ragionevolmente, direttore, se è accaduto con questo e con quello precedente accadeva anche, diciamo, gli altri anni, nessuno, curiosamente, se ne è accorto, perché in Italia funziona così, noi fortunatamente ce ne siamo accorti. Vogliamo, abbiamo chiesto chiaramente alla magistratura di verificare cosa sia accaduto e dall'altra parte il governo per il futuro dovrà intervenire sulla norma per impedire che possano andare avanti queste storture e è quello che intendiamo fare in uno dei prossimi consiglieri. Ne riparleremo in tempo di pace, perché adesso in campagna elettorale è ovvio che non si può fare un discorso, come dire, solo sereno. Però c'è un altro tema che ha suscitato molte proteste. Ieri avete varato questo provvedimento che riguarda le liste d'attesa degli ospedali, soprattutto. Dalle opposizioni si dice questo sotto il decreto niente, come si dice, parafrasando un famoso titolo, e non ci sono sostanziamenti adeguati. No, dalle opposizioni fanno il loro lavoro, voglio dire, lo considero normalissimo. Non è vero, non è vero per quello che riguarda le risorse, perché i numeri purtroppo non sono un'opinione, direttore. Questo è il governo che ha messo sul fondo sanitario più soldi in assoluto rispetto a tutti gli altri governi. 134 miliardi di euro nel fondo sanitario per il 2024 non erano mai stati messi da nessuno prima di noi. In più abbiamo previsto anche 500 milioni di euro per l'abbattimento delle liste d'attesa, abbiamo stanziato altri 750 milioni con la revisione del PNRR, abbiamo stanziato ulteriori 500 milioni nel decreto, questo in cui dicono che non c'è niente, soprattutto per le regioni del sud, per comprare i macchinari. Il decreto ieri sulle liste d'attesa, invece, secondo me, prevede una serie di cose molto utili. Dobbiamo sempre ricordare che la competenza è delle regioni. Però noi possiamo fare qualcosa, anzi, scusi, faccio mezzo passo indietro, perché la sinistra dice non hai messo abbastanza soldi perché in rapporto al PIL, ora questo fa un po' sorridere, perché diciamo con loro il PIL crollava e quindi la percentuale in rapporto al PIL era più alta, con noi il PIL va un po' meglio e quindi la percentuale si abbassa. Ma in ogni caso è un dato falso anche questo, perché quello che risulta a me è che i 134 miliardi sono il 6,88% del prodotto interno lordo, massimo con i governi del centro-sinistra al 6,6%. Eli Schlein propone di portarlo al 7,5%, servono 6,8 miliardi, non ci dice dove li dovremmo prendere. Sa perché non ce lo dice? Perché talmente questo governo ha speso i soldi solo sulle cose serie che loro non sono in grado di dire che cosa taglierebbero. Ma glielo dico io dove potevamo prendere i soldi da mettere nella sanità. Li potevamo prendere nei 17 miliardi di euro che sono finiti alle truffe del super bonus, che sono stati tolti a chi stava male e sono stati regalati ai truffatori e non è una mia responsabilità. Dopodiché il decreto prevede, secondo me, delle cose molto importanti. La più semplice di tutti, lei sa che noi parliamo delle liste d'attesa ogni giorno, raccontando questa situazione difficile che chiaramente ci arriva dalla percezione dei cittadini, ma nessuno ha i dati. Lei sa che non esiste un sistema di monitoraggio delle liste d'attesa. Se io oggi volessi intervenire puntualmente e dire dov'è il problema, io non lo saprei. Contesta quello che è stato la regionalizzazione della sanità? Sarebbe meglio se si rimettesse in discussione? No, non solo per metterlo in discussione, sul titolo quinto della Costituzione dovremmo parlare qualche ora. Ho visto che lei l'ha citato più volte dicendo che è stato passato nel 2001 con pochi voti dalla sinistra. Ho sentito la segretaria del Partito Democratico dire che è incivile una nazione nella quale ci sono 20 diversi sistemi di gestione dell'energia. E chi ha affatto? Ragazzi, neanche le basi. Io non sono per rivedere questo meccanismo, sono per aiutare questo meccanismo. E' quello che sto cercando di fare. Quello che noi stiamo cercando di fare è un sistema di monitoraggio. Abbiamo reso obbligatoria la norma che dice che i medici quando fanno una prescrizione devono dire qual è l'ordine di priorità, qual è il tempo massimo. Aiutiamo le regioni a farlo. Hanno 500 milioni a disposizione, l'abbiamo stanziati noi, anche utilizzando l'intramenia, il convenzionato, eccetera. Presidente Meloni, non vorrei che si allargasse a lei l'accusa di incontinenza che già mi prendete. No, quella è solo sua, direttore. Gliela voglio lasciare. Non faccia complimenti. Io mi tengo tutte le altre, nana, tutta questa roba qui. Incontinente glielo lascio. Siamo incontinente per le europee. Ma, allora, già che ci siamo, Putin sta dicendo alcune cose e soprattutto l'accusa più grave. Le armi occidentali a Kiev sono un passo molto pericoloso, anche peggio se chi le consegna le controlla anche. Vuol dire mandare anche degli esperti, degli consiglieri a Kiev per aiutare gli ucraini a utilizzare questi mezzi. Siamo in una fase cruciale della guerra. Abbiamo visto, noi osservatori, abbastanza nitidamente che c'è una maggiore timidezza tra le forze di governo rispetto a questo, rispetto all'aiuto a Kiev. Abbiamo visto anche nelle file dell'opposizione, ovviamente, il verbo pacifista più spinto a fermarsi. Cosa ci dice, Giorgia Menoni, che incontrerà tra otto giorni in Puglia, a Borgo Ignazia, non solo Biden, ma anche Zelensky, sull'Ucraina? Guardi, penso che la campagna elettorale non aiuti, penso che non aiuti né in Italia né in Europa per il dibattito, per come lo sto vedendo. Penso che queste questioni, diciamo, non dovrebbero essere infilate nelle campagne elettorali, perché sono questioni, diciamo, troppo serie per essere semplificate, come di solito le campagne elettorali fanno. Anche in Europa ci sono posizioni diverse, lo vediamo ogni giorno dalle dichiarazioni, ma c'è un punto sul quale siamo e credo che dobbiamo essere tutti a favore e riguarda tanto l'Ucraina quanto il Medio Oriente la difesa delle popolazioni civili. In Ucraina quello che non si dice è che la Russia ha ripreso a bombardare sistematicamente tutte le infrastrutture critiche che riguardano la popolazione civile per cercare di piegare il popolo ucraino con il buio, con... no, lo abbiamo già visto. Ora, c'è un modo per affrontare questo tema che secondo me è diciamo meno rischioso di quello che ci può portare a un'eventuale escalation che è il lavoro che l'Italia sta già facendo che è aiutare l'Ucraina particolarmente nei sistemi di difesa antiaerea cioè intercettare quei missili che colpiscono la popolazione civile perché il dibattito in Europa nasce da questo, no? Cioè può l'Europa può la Nato diciamo attaccare i luoghi da cui partono questi missili? Ragionevolmente non è necessario si può risolvere il problema in un altro modo è il lavoro che fa l'Italia e io sono fiera di questo lavoro dopodiché bisogna continuare a capirsi perché noi parliamo diciamo di questa guerra secondo me con delle semplificazioni che sono comprensibili un po' da tifosi comprensibili ma che insomma non ci aiutano no? L'unico modo di costruire pace in qualsiasi guerra è la deterrenza se non c'è equilibrio tra le forze in campo non c'è bisogno di nessun tavolo di pace se c'è già stata un'invasione non c'è bisogno di nessun tavolo di pace se oggi si comincia a parlare di diplomazia è perché in Ucraina noi abbiamo fatto il lavoro che abbiamo fatto perché altrimenti oggi avremo una nazione invasa e una guerra più vicina a casa nostra questa è la storia ed è la ragione per la quale chi crede nella difesa dell'interesse nazionale italiano non avrebbe potuto fare niente di diverso da quello che abbiamo fatto in questo lei ha trovato sempre sponda nel Consiglio Superiore di Difesa dal Presidente della Repubblica che è stato dal giorno dell'invasione netto e chiaro su questa linea in questi giorni abbiamo visto obiettivamente sotto attacco il Presidente della Repubblica da parte di esponenti della sua stessa maggioranza vogliamo dire delle parole chiare su questo in conclusione guardi io penso che sia un errore penso che sia un errore particolarmente nella festa del 2 giugno una festa della Repubblica una festa nella quale bisognerebbe cercare il più possibile di evitare le polemiche nessuno se ne è accorto ma noi abbiamo fatto un comizio di chiusura della campagna elettorale alle 2 del pomeriggio di sabato 1 giugno perché non volevamo farla nel 2 giugno perché è una giornata nella quale le polemiche andrebbero evitate poi l'ha fatto il PD il 2 giugno perché loro evidentemente questi problemi non se li pongono ma particolarmente in quel giorno io non avrei diciamo fatto polemiche dopodiché però anche qui fermo restando che le opinioni di chiunque sono criticabili in una democrazia è direttore però insomma francamente le elezioni dalla sinistra sul rispetto dei ruoli istituzionali anche no ma non tanto dico per me perché poi io sono presidente del Consiglio però insomma sul presidente del Senato e sul presidente della Camera e anche sui presidenti della Repubblica diciamo che erano meno affini non mi pare che la sinistra abbia risparmiato le sue critiche quindi non ci facciano le elezioni perché francamente ci crediamo poco però qui è opinione pubblica osservatori borghi tanto per intenderci alla sinistra lasciamo fuori possiamo dire che ha detto dal suo punto di vista delle cose inaccettabili borghi ma io non l'avrei fatto ripeto insomma non l'avrei fatto non sono d'accordo però è anche legittimo criticare per carità penso che sia legittimo anche criticare poi sono contenta che Salvini abbia detto una parola chiara su questo e quindi per me la questione è ampiamente risolta da una parte è legittimo criticare dall'altro io non avrei fatto quella critica semplice in generale eviterei questo non lo dico per il centrodestra lo dico più per l'opposizione cioè questo continuo tirare per la giacchetta il presidente della Repubblica anche sulla riforma del premierato ha un ottimo sarto però insomma non aiuta non aiuta e non penso che diciamo sia anche rispettoso verso la figura Israele è stato sicuramente aggredito ma c'è un modo di fermare Israele prima che adesso tutto degenere in maniera irreparabile bisogna continuare a mantenere aperti i canali di dialogo bisogna anche però usare parole chiare il problema è che io penso che gli amici di Israele debbano avere il coraggio di dire a Israele che rischia che si sta infilando un po' nella trappola che sembrava disegnata dai fondamentalisti islamici contro Israele che era una trappola che puntava all'isolamento dello Stato di Israele tanto nella regione quanto nelle opinioni pubbliche internazionali è purtroppo quello che sta accadendo e penso che per questo insomma chi crede diciamo nella sicurezza di Israele nel suo diritto debba su questo non smettere di dire parole chiare così come penso che il modo più efficace per costruire una pace in Medio Oriente sia lavorare concretamente e da ora alla soluzione di due popoli in due Stati allora io la ringrazio ricordo ai nostri telespettatori che spero sia stato lo è stato sicuramente per me interessante questo incontro questa intervista alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è lo spazio a cui aveva diritto non c'è non mi ha regalato niente non le ho regalato niente peraltro una signora un regalo fa sempre bene però non le ho proprio regalato regalato niente avranno allo stesso tempo tutti gli altri protagonisti della campagna elettorale spero di vederla speriamo di vederla sulla 7 dopo la fine della campagna elettorale in tempo di pace politica per discutere ancora di questi e altri temi ho detto e ripeto direttore che sono sempre disponibile a parlare di politica se si vuole parlare di politica grazie e allora dopo di noi grazie